Sono in compagnia del Capitano Fabio Romitelli del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana. Capitano Romitelli, benvenuto su HTO. Ringrazio di averci dato attenzione a questa importante esercitazione per il Corpo Militare della Croce Rossa. Grazie a voi naturalmente per averci invitato. Abbiamo parlato appunto, stavamo dicendo esercitazione. Che cosa abbiamo visto stamattina? Questa mattina avete visto di fatto qualcosa di più di un'esercitazione. Avete visto praticamente lo spiegamento di alcune importanti strutture sanitarie campali che vengono utilizzate sia in occasioni di missioni umanitarie all'estero ma anche per tutte le attività di protezione civile in caso di disastri naturali sul territorio nazionale italiano. Ci sono stati poi alla fine dei feriti, dei morti. Come è stata la procedura? La procedura è quella praticamente di fare una valutazione dei pazienti sul campo, provvedere già sul campo ad una stabilizzazione dei parametri vitali quindi di fatto è quello che è il primo triage. Successivamente vengono trasportati in una struttura detta Rol 1, posto medico avanzato a seconda del contesto in cui si sta attivando l'operazione e dove vengono nuovamente rivalutati, nuovamente risottoposti da alcuni accertamenti e eventualmente ulteriori stabilizzazioni per il trasferimento presso una struttura ospedale campale Rol 2, Rol 3 oppure presso un vero e proprio ospedale. Quello che avete visto questa mattina sono stati questi passaggi che hanno permesso praticamente agli infortunati nell'evento, nell'incidente che è stato simulato la valutazione delle condizioni, la stabilizzazione e l'intervento proprio in area critica grazie alla presenza di chirurghi e degli animatori. Le ha parlato di Rol 1, Rol 2 e Rol 3. Che cosa sono per chi non sa appunto? Rol 1, Rol 2 e Rol 3 di fatto è la categorizzazione nata per le strutture campali sanitarie Rol 1 è quell'unità che viene posizionata il più vicino all'evento catastrofico qualunque esso sia, sia che sia di natura militare sia che sia di natura purtroppo da catastrofe naturale ed è una unità veloce. Rol 2 e Rol 3 già parliamo di veri e propri ospedali campali dove è già possibile effettuare interventi, gruggi e stabilizzazione i Rol 3 è già un ospedale con possibilità diagnostiche sia radiologiche che laboratorio superiori a Rol 2 ma già nel Rol 2 è un ospedale campale completo. La struttura che abbiamo visitato stamattina era enorme, quanto tempo ci vuole per metterla su? Più che quanto tempo ci vuole perché questo ovviamente per i non addetti ai lavori è sempre un termine importante. La cosa importante è che comunque non ci vuole molto ci vuole qualche ora con personale comunque addestrato e l'evoluzione delle strutture campali si è passati dalle famose tende che conosciamo tutti alle tende pneumatiche, ora quelle esoscheletro e grazie alla formazione del personale ci danno la possibilità di intervenire in pochissimo tempo fermo restando che il primo nucleo, ovvero il posto medico avanzato per la protezione civile che è comunque l'analogo del Rol 1, ci vogliono circa 30 minuti, quindi si inizia a lavorare immediatamente mentre tutto intorno intanto si vengono ad essere montati gli altri moduli. Quindi più che parlare di un termine di posizionamento bisogna parlare di momenti successivi però per il paziente non vi è questa differenza perché viene trattato immediatamente comunque. Abbiamo detto che lei è un capitano medico, quindi di che cosa si occupa? Cosa mi occupo? Mi occupo dell'attività nell'ordinario perché esiste anche l'ordinario ovviamente che vuol dire la formazione del personale nelle manovre di emergenza e nella formazione di alta specializzazione dei vari corsi che ogni anno effettuiamo e mi occupo chiaramente anche della medicina legale perché ovviamente il personale deve essere valutato per l'idognità fisica e psicologica pre-invio ma anche al rientro delle missioni e ovviamente mi occupo sempre con lo zaino pronto insieme ad un altro collega che poi è il mio diretto superiore, il colonnello Tripodi, siamo sempre pronti lì se c'è il problema a partire come primi medici, fermo restando che partiamo come prima e se il primo vuol dire ben poco perché è la nostra fortuna che abbiamo tanti colleghi tra l'altro del congetto che successivamente, una volta che il meccanismo di turnover viene messo in atto ci supporteranno. Lei fa parte del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana dal 1987, in quali teatri operativi è stato? Con il corpo siamo stati, quindi di fatto come ufficiale medico del corpo, siamo stati in Bosnia per il supporto al genio ferrovieri che ricostruiva la rete ferroviare per permettere l'arrivo degli aiuti internazionali dalla Germania che altrimenti non sarebbe stato possibile e avevamo la responsabilità sanitaria. Successivamente c'è stato il Kosovo, l'Albania, l'Iraq, l'Afghanistan, c'è stato poi in Italia purtroppo abbiamo avuto le varie inondazioni o esondazioni come i giornalisti ormai utilizzate questo termine terremoti importanti purtroppo come l'Umbria Marche, l'Abruzzo e l'Ampeluso ultimamente che di fatto anche quella va gestita come una catastrofe nell'ambito delle attività di medicina delle catastrofe. Quindi in tutti questi teatri il corpo c'è sempre stato. E adesso dove la vedremo? Io mi auguro da nessuna parte perché questo vuol dire che fermo restando che noi continueremo ogni giorno a fare il nostro lavoro e la nostra attività finché ci sarà concesso e permesso. È ovvio che noi ci auguriamo che il nostro sia soltanto un lavoro di attesa senza nessun tipo di attivazione perché vorrebbe dire che c'è qualcuno con grossi numeri che è in difficoltà. Quante volte all'anno vi esercitate? L'esercitazione più che altro la formazione è continua. È continua perché è una cosa in cui il nostro generale, l'ispettore nazionale Gabriele Lupini ha speso molto e continua a spendere, ma al di là del discorso del budget, spende proprio con le energie continuamente per un semplice motivo perché la formazione ci permette da una parte di avere la possibilità di avere sempre del personale adeguato alle diverse situazioni, dall'altra di dare maggior sicurezza alla popolazione anche perché le strutture campali ovviamente non sono come un vero ospedale e quindi chi è che fa la differenza è poi la professionalità e siccome anche chi è abituato a lavorare negli ospedali tutti i giorni, dei fantastici specialisti che per fortuna abbiamo come colleghi, nell'ambito campale tutto diventa più complicato perché ci sono problemi di luce, c'è problemi magari di condizioni climatiche, si passa dalla neve ai più 60 del deserto iracheno, quindi necessariamente questa formazione è continua dal punto di vista, in particolar modo parlando di formazioni professionali si parla di ecografia in emergenza, si parla di ATLS, ATALS, pre-trauma hospital, sono tutti corsi che ci permettono poi di poter avere una maggior serenità nel momento in cui andiamo a operare, visto che operiamo sempre nel caos completo quando ci chiamano. Capitano Romitelli, grazie mille per la sua collaborazione e grazie soprattutto per quello che fate per noi e anche per gli altri. Grazie a voi per averci dato questa attenzione. Grazie. Grazie.